Eccola qui, tutta bagnata, sto parlando della nostra Opel Crossland X Il SUV di Opel è spazioso, comodo e tecnologico Andiamo subito a dare un'occhiata Eccola qui intanto con i fari full led e i cerchi in lega Dunque eccoci a bordo di Opel Crossland X 1.16 cilindrata, 100 cavalli, con motore diesel E niente ragazzi, io sono curiosissimo di provarla Questa è la nostra Opel Crossland X Da noi potete trovarla aziendale e usata Detto questo, passiamo al test drive Eccoci qua, prontissimi per provare questa Crossland X Capisco perché le diano del crossover Quando in realtà si tratta di un vero e proprio SUV Perché ragazzi, sto in altissimo C'è un sacco di spazio, le tecnologie sono super all'avanguardia Ha anche un taglio super sportivo Quindi direi di non farci abbindolare troppo dalle chiacchiere E andiamo a provare questa Crossland X In questa uggiosa giornata di pioggia purtroppo Ma noi non ci facciamo fermare da nulla Neanche da queste quattro gocce Anche se fosse, sulla Crossland X Non c'è nulla di cui preoccuparsi Perché è dotata di specchietto retrovisore elettro cromatico Di sensori di pioggia per i 3G cristalli Infatti in questo momento sto utilizzando la modalità automatica Non c'è molta pioggia Quindi sono regolati in modo tale che io riesca comunque a vedere Senza essere disturbato troppo dai 3G cristalli Anche perché spesso quando mi trovo a guidare sotto la pioggia Ho sempre questo disturbo di dover regolare i 3G cristalli In modo tale che non mi diano fastidio Che allo stesso tempo mi permettano di avere il parabrezza pulito È veramente di una comodità assurda ragazzi Ma scannelliamo un po' Vai, scannelliamo un po' Sentila Mi ha appena indicato che stava andando fuori dalla linea della carreggiata Quindi la sicurezza veramente al top Diretto alternativo vai Ho voglia di provarla per bene Sapete cosa? Io in realtà odio queste giornate di pioggerellina Perché il vero problema qui è la strada ragazzi Perché la strada in queste giornate rimane Non so, bagnaticcia direi È tipo quasi più scivolosa di quando appunto piove veramente tanto Per fortuna questa ha anche il grip control Sistema di riscaldamento e raffreddamento È bizona Questa è dotata di tecnologia quick heat Per poter viaggiare sempre con la giusta temperatura Insomma veramente un'auto dalle mille sfumature Ed entra senza ombra di dubbio a far parte delle mie preferite Torniamo alla base Ragazzi Questa è la nostra Opel Crossland X Deve trovarla a 15.500 euro Oppure 194 euro al mese con il prezzo Rattisi Che dire ragazzi Mi ha rincuorato in una giornata così uggiosa Oggi voglio utilizzare questi termini uggioso E nulla Visitate il nostro sito cliccando il link che trovate nella descrizione Per notare il vostro test drive Venite a trovarci in showroom Abbiamo più di 500 auto disponibili Chilometro a zero Aziendali e usate Veramente di tutto e di più Quindi dove stai aspettando Vieni subito a trovarci Da Brian è tutto Al prossimo video Bella Ciao